Poste Italiane ha comunicato che l'ufficio postale di Pestum in via Torre di Pestum resterà chiuso a partire dal 10 luglio per la realizzazione di lavori di adeguamento normativo. Durante tale periodo i cittadini potranno usufruire in alternativa degli uffici postali di Capaccio Scalo e Ponte Barizzo. La riapertura dell'ufficio di Pestum è prevista per il prossimo 20 luglio.